Il Comune di Montecalvo si avvia a chiudere una fase particolarmente dolorosa, quella del dissesto finanziario. Nuovi fondi per l'anno 2012 e 2013 sono in arrivo? Sì, sicuramente siamo in una fase avanzata e riteniamo che poter accedere al fondo di rotazione previsto con l'ultima norma consente sicuramente al nostro Comune di poter venire fuori da una situazione che era estremamente complicata. E oggi noi possiamo anche dire che è stato quanto mai saggia la scelta di fare il dissesto anche perché nel caso in cui noi non l'avessimo fatto ci saremmo trovati con una ulteriore spada di Damocle che era quella poi legata alla riduzione dei trasferimenti agli enti locali che c'è stata in questi anni che si è ridotta di circa 500 mila euro per il Comune di Montecalvo per ogni anno e questo avrebbe sicuramente generato altre problematiche. La scelta è stata una scelta dolorosa perché innanzitutto ha richiesto il grave e grosso sacrificio di tagliare sui dipendenti. Il 30% dei dipendenti del Comune di Montecalvo è stato messo in mobilità. Fortunatamente la stragrande maggioranza di loro ha trovato una ricollocazione e questo non ci può fare altro che piacere. D'altro canto le misure di austerity hanno colpito poi tutta la cittadinanza, nel senso che noi abbiamo dovuto porre le alicote massime su tutte le tassazioni. Non ultima l'IMU e speriamo che il futuro Governo, se ci sarà, possa modificare questa norma cercando di alleviare quello che è il sacrificio dei cittadini, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. L'ulteriore notizia che ci ha molto confortato è il fatto che il Ministero, su nostra richiesta, forte di un parere di un professore universitario, ha riconosciuto come somma ammissibile alla massa passiva il lodo con una ditta che ha fatto il comparto pappano che ammonta circa un milione di euro. E questo è stato anche questo un elemento estremamente positivo. La strada per chiudere la pratica di sesto del Comune di Monte Calvo è oramai in discesa e problemi sotto questo punto di vista non ne dovremmo avere più. Sindaco, intanto ci sono anche dei lavori in corso e lavori da avviare. Alcuni riguarderanno le casette asismiche che ancora insistono sul territorio comunale. Questo è un altro grande risultato che è stato ottenuto tra lo scetticismo generale perché si trattava di una procedura e una richiesta di finanziamento che ha più di dieci anni e che si era impantanata. Noi siamo andati in consiglio comunale, abbiamo fatto una variazione allo strumento urbanistico, abbiamo finalmente chiuso nel mese di dicembre, se non vado errato, l'accordo di programma con la Regione Campania che ci permette di accedere a un finanziamento di 1.700.000 euro per chiudere definitivamente la questione relativa alle casette asismiche del 30. Con le casette asismiche che sono in Rione annunziate, che saranno abbattute, su quell'area sorgerà una villa comunale e un parcheggio coperto. L'altra zona, quella di Rione Fano, invece è rientrata in un accordo pubblico-privato che prevede la sistemazione dell'intera area e la costruzione di una struttura che è 20x20 per una sorta di centro commerciale che sarà di un privato. Però è necessario fare una convenzione col privato ed è all'attenzione degli uffici comunali la preparazione della stessa che dovrebbe essere chiusa entro il mese di aprile. Grazie a tutti!